E volava, volava e montezza fin alto del sole l'ancora più su Mentre il mondo pian piano sbazzare non ci sta più Non ho scelto per te e tu vini o forse un'auto da me Oh, oh, oh… Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Non è mai a dover pulire! Ma che cosa? Ma bene! Sono tre mesi che non ci pagano i nostri pelli! Dai ragazze, facciamo stare in mezzo da fare! Bene, ci siamo tutti! La situazione è grave! Non possiamo continuare a lavorare senza stipendio! E senza ragazzo, per favore! Ed è un lavoro inutile perché la gente butta tutto a terra! Pensate che oggi uno mi ha detto che fanno bene a non pagare lo stipendio perché le strade della città sono sporchissime! Dicono che il comune non ha nessuno per pagare! E allora cosa facciamo? I tre mesciottoli! Si, dai! Sciopero! 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 Io sono vero! Io sono vero! Niente morale! Noi non stavano! Noi non stavano! Noi non stavano! Duttate! Duttate! Gaffoni! Gaffoni! Prestate le versioni! La mia famiglia! La mia famiglia! La mia famiglia! La mia famiglia! Dove Montano! Poi, me lo faccio! L'ho scopo! Da Posso andare! Io sono vero! Bona via! Buonasera! Oggi è una manifestazione di un fatto di comunità che protettano perché noi c'erano di prendere attento. Colleghiamoci a cosa poter dire un po' Angelo a te, Angelo dice tutto. Ciao, quindi, e buonasera ai tre spettatori. La manifestazione è un pericorso. Cerchiamo di intervistare alcuni manifestanti. Ci dica, perché è buon'estate? Sono mezzi ormai che non ci fanno un istituto. Beh, gli nostri fattori vedevano pur mangiare. E gli altrimenti non possono muoversi perché non ci sono i codifoni da Riccardoavante. Dicono che lavoriamo poco e male. Ma appena puliamo ci ha risultato qualcuno che sporca di uomo. Quindi dite che non si può andare a me così e avete testo di parlare con il sindaco? Sì, e speriamo che ci risponda. A questo punto, poi, ci aggiungiamo la manifestazione che il sindaco ha convocato tutta la città di Nantes e domani ha rinunciato a mente nella piazza davanti al pubblico. E cosa dovrà dire? A questo punto, poi, ci aggiungiamo la manifestazione che il sindaco ha avuto un'altra parte. Ciovero! 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 Cari concittadini, Cari concittadini, in questo momento la nostra città di Puzzonia sta portando delle difficoltà. Cicci, e l'eterno, non ci vediamo più. Basta! Avesse ragione, ma io penso che possiamo risolverla insieme. E come? La città è sorta, non c'è vicino ad ora, c'è punta da per tutto. Guarda! Quello che dite è bello, ma oggi andiamo a scena. Nelle vostre case, frittate le cartacce a terra? Ma no! Per le cittadini a striccioli. E le bottiglie di classica? E le bello! E le cittadini, ma... Ma no, scherza! Ma non c'è bene, signor sindaco, fintano che amo! E contenitori. Grazie mille! Grazie a tutti. Grazie a tutti.